Dalla prossima settimana anche l'Università degli Studi di Salerno torna in presenza con la possibilità per gli studenti di poter comunque seguire le lezioni attraverso una piattaforma online. Tornano anche le sedute di laurea in presenza. L'e-learning rappresenta una nuova opportunità, un modello di apprendimento nel futuro post-covid, ma nulla allo stesso tempo può sostituire la didattica in presenza, ma il covid ha permesso di valorizzare un passaggio di competenze e di conoscenze. Così ai nostri microfoni il rettore dell'Ateneo Salernitano Vincenzo Loia, un anno dopo l'attivazione di una serie di correttivi per la pandemia. Un'esperienza che, seppur dolorosa, ha permesso di sviluppare nuovi percorsi formativi. Dalla prossima settimana noi quindi aspettiamo i nostri studenti. Tutto il secondo semestre verrà rimodulato proprio in relazione al ritorno degli studenti. Un ritorno che ovviamente per noi è un momento molto importante, sentiamo sia con gioia ma anche con un senso di responsabilità. La didattica ritorna in una modalità di presenza, però sempre nell'osservare quelli che sono i criteri di sicurezza. Il nostro protocollo, che ovviamente ormai è ben rodato, si basa anche su strumenti tecnologici all'avanguardia, assicurando per gli studenti che non possono ritornare in presenza perché vivono in zone ovviamente abbastanza lontane o hanno delle situazioni un po' più critiche, che saranno assicurate le modalità miste, la modalità blended. Per cui gli studenti che si prenotano vengono nel campus sempre in una condizione di assoluta tranquillità, gli studenti che non possono venire potranno seguire la stessa lezione che si svolgerà in aula con la presenza del docente da casa. Abbiamo numeri importanti, noi abbiamo 40.000 studenti, tutto il secondo semestre sono quasi 1.800 corsi su 99 corsi di laurea, numeri veramente importanti, quindi ci vuole un modello organizzativo molto solido, molto robusto, che serve a garantire ovviamente la continuità della didattica. Io vorrei anche ricordare i numeri che essenzialmente non sono cambiati da un momento di non emergenza, da un momento di emergenza Covid. Circa 250.000 esami svolti in un anno accademico. Lo stesso numero che avveniva in una modalità di non emergenza. Circa 2.500 laureati all'anno. Lo stesso numero che avevamo in un anno in cui non c'era la pandemia. Io mi permetto di dire che noi abbiamo dato veramente una risposta convincente nel garantire questo, ovviamente però in una condizione di diversità, di una modalità completamente diversa. L'università ha impiegato dieci giorni per passare da una didattica totalmente in presenza a, ahimì, una didattica totalmente a distanza. Questo ovviamente è stato un sacrificio enorme che abbiamo fatto tutta la nostra comunità coinvolgendo gli studenti. Noi vogliamo ritornare gradualmente in una condizione di normalità, ma sempre osservando la sicurezza dei nostri studenti. Dalle debolezze vengono fuori anche dei punti di forza. Quanto questo periodo di pandemia ha avvicinato gli studenti all'e-learning? Generalmente eravamo abituati a una didattica in presenza, invece si registra uno sviluppo molto forte anche di corsi paralleli online. Giustissimo. Noi non eravamo onestamente pronti. Penso che nessuno era pronto a questo stravolgimento di una metafora, di un paradigma anche di interazione. Però, come dire, dovevamo, dovevamo e quindi tutti noi, partendo dai docenti, partendo dagli studenti, da tutto quello che è stato anche uno sforzo, perché dietro c'è una macchina poi anche fatta di amministrazione, di processi amministrativi, tutto questo risultato non può essere ora cancellato. Deve essere inserito in una visione, anche a mio parere, aggiornata della didattica, perché è giusto che questa esperienza, che a mio parere, pur se dolorosa, è stata un'esperienza di successo. Noi ne prendiamo a questo punto anche il merito e lo inseriamo in una continuità, ovviamente sempre andando a considerare la prevalenza della presenza, la prevalenza di una didattica in presenza, perché, lo voglio anche dire, i laboratori, i laboratori numerosi, centinaia di laboratori che noi abbiamo non possono essere, ovviamente, come dire, trasformati in un laboratorio didattico, non tutti. Quello che però possiamo fare è far evolvere il nostro paradigma della didattica mantenendo una continuità circoscritta, studiata, pensata bene, proprio per venire incontro alle aspettative di una maggiore flessibilità per gli studenti. Anche per lei, da rettore, è stato un percorso diverso rispetto a quello che si attendeva da quando si è insediato qui all'Università degli Studi di Salerno. Sta già pensando al prossimo anno accademico a qualche novità, a qualche modifica, livellando qualcosa? Penso soprattutto a un potenziamento della internazionalizzazione del nostro campus. Penso che essere campus ci dia una marcia in più in un contesto di internazionalizzazione. Questo è il mio sogno, questo è il mio desiderio e sono convinto che con la ripresa di una esistenza normale noi potremo accelerare su questo scenario. Grazie. Grazie.